Musica Siamo 6.000 autisti, abbiamo una carenza di personale viaggiante in ogni settore Molti osservatori si interrogarono perché non avessi portato i libri in tribunale Penso che la procura di Roma abbia proprio una stanza dedicata all'ATAC a questo punto qua Ma io credo che sia uscito da tutte le parti che ci sia un consociativismo politico sindacale Grandissimo Il fatto che si chiedesse di timbrare il cartellino non mi sembra una richiesta assurda Si è pensato ad assumere grandi quantità di personale e forse dove non ce n'era bisogno E questo ha comportato delle spese ragguardevoli Non si è pensato ad una programmazione corretta per la sostituzione ciclica dei mezzi Dove si erano andati a finire questi soldi? Non sta a me dirlo, so che c'è un'inchiesta in corso e quindi saranno loro poi ad accertare questo Quanti anni mancano? Non è male, restituire a Roma le più efficienti aziende di trasporto che abbiamo mai E quindi la priorità sulla... Estimamente cercare di riportare ATAC in una posizione di forza È capace di offrire un servizio che sia il migliore possibile Grazie mille!